Ben trovati al meteo. Venerdì 23 settembre, ancora bel tempo, poi nel weekend l'anticiclone delle azzorre lascerà spazio all'arrivo di una perturbazione. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Nelle ore pomeridiane addensamenti sui rilievi e sulle aree limitrofe, ma in genere senza conseguenze. Temperature stazionarie minime tra 7 e 12 gradi, massime invece comprese tra i 18 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Sulle Alpi avremo qualche annuvolamento, mentre sul resto della regione cielo più limpido. Temperature minime sui 10-14 gradi, massime intorno ai 20-21-22 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole senza piogge degne di nota, solo con qualche nube a carattere sparso, ma appunto sarà innocua. Temperature minime intorno ai 7-9 gradi, massime sui 23 gradi all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, buon proseguimento in nostra compagnia.